Forza Italia riparte da una consapevolezza. Oggi rappresenta l'opposizione sia a livello regionale sia su scala nazionale. È necessario allora far fronte comune per presentarsi fiduciosi e vincenti alle amministrative di Bari e Foggia del 2019 e alle regionali del 2020. E il messaggio è emerso nel corso dell'incontro organizzato a Ruvo di Puglia presso l'Hotel Pineta, al quale hanno preso parte i vertici regionali di Forza Italia. Così parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali si sono ritrovati tutti insieme per mettere in campo proposte, guardando però sempre con fiducia al futuro, alla luce dei risultati positivi sia delle politiche che delle amministrative. Io credo che i nostri elettori vogliano un partito compatto, coeso, vogliano delle proposte. Tutto sommato alle politiche Forza Italia non è andata male e anche alle amministrative a retto, vincendo al primo turno Barletta, andando a ballottaggio a Brindisi come prima coalizione, vincendo Monopoli. Quindi al sud Forza Italia regge, si consolida e deve essere rilanciata. Questo risultato certamente non è un punto di arrivo, per noi è un punto di partenza. È importante proprio oggi ricominciare, dopo una tornata amministrativa, molto importante, quale è stata quella poc'anzi passata, incontrare e fare anche un ragionamento, un'analisi pure politica di come è andato il voto amministrativo e poi soprattutto ristabilire un corretto rapporto tra quello che sono anche i parlamentari oggi a Roma e il territorio. Una giornata molto importante perché si farà l'analisi del voto delle politiche ma soprattutto si farà l'analisi di quelli che sono i progetti futuri, soprattutto quella che sarà la competizione delle competizioni, cioè le elezioni regionali del 2020 dove il centrodestra dovrà assolutamente prepararsi e soprattutto presentarsi unito, compatto per vincere finalmente dopo 15 anni di sinistra fallimentare. Dunque abbiamo un'occasione importante per stabilire quella che è la roadmap che ci separa ormai da questo importante appuntamento. Abbiamo i numeri ancora per essere determinanti nelle varie coalizioni. Abbiamo visto nelle politiche, abbiamo mantenuto soprattutto al sud percentuali che si sono attestate intorno al 20%. Abbiamo comunque nei comuni in cui si è già votato parecchi candidati sindaci al ballottaggio per cui riteniamo che Forza Italia possa essere ancora forza trainante anche perché è portatrice di valori diversi dall'altra parte del centrodestra.